In Ortigia la rassegna multidisciplinare con arte e scienza. Alvia l'edizione 2018 della manifestazione dedicata ai piccoli che si svolgerà anche quest'anno nel Centro Storico fino all'8 luglio. Una rassegna multidisciplinare in cui arte e scienza si amalgamano con l'obiettivo di far emergere e incentivare il talento dei più piccoli, contagiandoli di sano entusiasmo prezioso alleato lungo il percorso di crescita. Il compito di questa formula pedagogica con cui si sperimenta l'entrattenimento puro rimane quindi quella di intercettare l'X Factor di bambini e adolescenti, alimentando le loro passioni e offrendo loro una gratificante vetrina pubblica in cui mostrare in un festival con premiazione e gran galà finale il frutto del loro impegno e delle loro naturali attitudini. La rassegna Festa Archimedei contiene varie attività aperte al pubblico programmate per tutti gli otto giorni a partire dalle 19 alle 24. Laboratori ludico-didattici, musicali, artistici, teatrali, mostre permanenti e tematiche, esibizioni e conferenze d'approfondimento. La parentesi scientifica dell'evento invece sarà costruita dal contestuale svolgimento delle giornate pediatriche seracusane che saranno ospitate il 6 e il 7 luglio all'Urban Center di Vianino Bix. Qui convergeranno insegni medici specializzati in varie branche della pediatria che si confronteranno e illustreranno partecipanti alle novità che contano, trattando diversi casi clinici emblematici. Durante le due giornate e le tre sezioni di lavoro in cui sarà articolato l'incontro si parlerà di nuovi farmaci e delle loro funzioni, da quelli per la pelle a quelli per la mente, da quelli usati per fronteggiare le emergenze a quelli impiegati per migliorare le performance dell'apparato digerente.